Chi è? Carmen, silenzio Carmen Ciampi Ma come Ciampi, Carmen? Un DJ non è? Ma che DJ ti sembra un DJ? Non è un DJ È un politico Beh Il presidente Il presidente Della situazione Della camera Eh, della camera sua? Il nostro presidente Ah Ce l'ha sulla punta della lingua Dillo Ma lo sa Lo so che ti sta presentando È il presidente Della Repubblica Bravissima E che si chiama Ma Ma Mattarella Mattarella Che di nome, scusate Silvano Mattarella Magari Sergio Bravo No Questa mi piace molto Ammetto che non la sapevo Chi ha inventato la penna Sfera? Allora Sfera E basta Ecco No, no Attenzione Perché Carmen Di Pietro Ha avuto un'intuizione Ha detto Sfera Il cognome Si chiama Sfera Ecco, no No Ma un sinonimo della penna Sfera, no? Come la chiamiamo abitualmente? La Biro Biro Antonio Biro No Non è Antonio Ma era un giornalista inventore ungherese Naturalizzato argentino Che di nome fa Ma?